Benvenuti a Santa Cesarea Terme, mondo immobiliere Lecce, oggi vi presenta un appartamento vista mare, posto al terzo piano di questa caratteristica palazzina. Il salone ha un doppio affaccio su questo balcone, con questa meravigliosa vista mare, così come anche la camera da letto matrimoniale. Per l'altra parte del corridoio invece c'è la seconda camera da letto, il bagno, la cucina e la zona lavanderia. Un risveglio con il sole che sorge dal mare è un'esperienza impagabile. Un risveglio con il sole che sorge dal mare è un'esperienza impagabile.